venditalia 2024 continua ci troviamo allo stand di evoca group spa il più grande produttore al mondo di distributori automatici siamo in compagnia di luca alemanni il responsabile commerciale italia caro luca dopo due anni bentornato grazie fabio e benvenuti a tutti a venditalia 2024 una venditalia che sta riuscendo direi davvero molto bene siamo al secondo giorno i corridoi sono pienissimi gli stand sono altrettanto pieni e voi siete abbastanza soddisfatti di questa due giorni su quattro direi che la stanchezza di questo momento fa capire che insomma abbiamo accolto molti clienti molti amici quindi c'è grossa soddisfazione siamo molto soddisfatti di quello che ci hanno raccontato quello che noi stiamo raccontando a loro quindi bello è sempre bello essere a venditalia incontrare tante persone è una gran festa riuscire a incontrare tanti amici che si incontrano davvero in modo sporadico se non in occasioni ufficiali rende tutti molto più felici e rende poi questo appuntamento ancora più sacro in questa occasione voi state presentando davvero tantissime cose caro luca da dove partiamo allora penso ci penso perché le cose da dire sono molte vedo di riuscire a concentrarle abbiamo rinnovato davvero tanto in questo in questa occasione ci presentiamo con uno stand totalmente nuovo e anche dei nomi totalmente nuovo abbiamo completamente cambiato la modalità di chiamare le nostre macchine abbiamo rinnovato il marchio storico Necta con un nuovo logo ma soprattutto dietro questi cambiamenti diciamo più estetici abbiamo portato tante novità concrete puntando su quelli che sono per noi i pilastri di evoca su cui quando sviluppiamo un nuovo prodotto ci basiamo mi riferisco quindi all'aspetto innovativo e all'aspetto della sostenibilità che oggi sono due concetti un po essenziali un po spesi da tutti ma io credo che invece essere concreti in quando quando si fanno queste queste attività sia fondamentale finiamo dunque alla presentazione di questi modelli e delle linee conseguenziali sì abbiamo deciso in questa occasione di creare uno stand organizzato come un viaggio e questo viaggio vuole essere un po rappresentativo dei vari momenti che i nostri clienti e i nostri utenti incontrano nel corso della giornata una giornata tipica tipo ad esempio può essere costituita da il fatto che una persona possa prendere un aereo quindi si recchi in una lounge di un aeroporto possa ad esempio andare ad affittare un'automobile possa essere prese prendersi un caffè presso il suo ufficio visitare una fabbrica andare a rilassarsi in un hotel fare colazione presso questo hotel. Luca puoi indicarci qualche bevanda qualche prodotto a cui possiamo pensare per indicare qualcuno di questi momenti della giornata? Allora sì se penso a un hotel quindi a una sala colazioni posso pensare al fatto che abbiamo presentato delle macchine che fanno un prodotto a base di latte liquido incredibile veramente eccezionale se penso che questo può essere abbinato a un'offerta di ice coffee o di ice cappuccino che è una bevanda molto di tendenza e che sta diventando un classico in molti momenti della giornata di chi viaggia oppure posso pensare a quello che è più convenzionale e noto per noi cioè il momento della giornata della pausa caffè durante il lavoro. In questo caso abbiamo ad esempio presentato la nuova gamma di Necta che si chiama Barista 500 e 600 Touch Pro che include le ultime soluzioni tecnologiche che incontrano sicuramente l'apprezzamento dei clienti che già da tempo utilizzano Necta ma anche dei clienti nuovi che approceranno o vorranno scommettere su Necta. Nel frattempo voi guardavate le immagini legate alla presentazione di questi distributori che sono alle nostre spalle alla nostra destra che occupano gran parte del vostro stand e che possono essere visibili quando non ci sono tutti questi visitatori. Per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni è il caso di indicare un indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con voi, avere un'offerta senza alcun impegno, magari entrare anche in contatto con un concessionario di zona dal momento che voi siete estremamente capillari sul territorio con oltre 15 concessionari in tutta Italia. Sì, l'indirizzo è www.evocagroup.com, qua potrete trovare sicuramente oltre ai riferimenti e ai contatti dei nostri rivenditori sul territorio, anche la presentazione delle nostre macchine, le schede tecniche, l'accesso al sito ricambi e tutto quello che riguarda la nostra offerta. Luca Alemanni, responsabile commerciale Italia per Evocagroup, grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti e a presto.